beh ragazzi e benvenuti a questo video sono expiron e oggi siamo qui su brave frontier incredibilmente oggi senza webcam perchè non ho tempo poi di renderizzarlo sono le 6 e 55 e alle 7 deve essere pronto il video incredibilmente mi sa che questo video arriverà un po' in ritardo oggi ragazzi non siamo sul dungeon giornaliero che ormai vi ho spoilerato eh si sarà ancora la cryptadoro ma eh già già spoilerato così incredibilmente e guardate di exp quanto mi manca a livello 44 un cavolo oggi ragazzi vi volevo far vedere madonna quanto è lento oggi vi volevo far vedere appunto ehm un attimo i regali riscattiamo e riceviamo questi regali ragazzi eh oggi vi farò vedere un po' come appunto potenziare al meglio i vostri eh le vostre unità e oggi come vedete grazie a questo appunto coso grazie a questo dungeon sono riuscito a portare Vargas a Sacro Fuoco che è tipo potentissimo ora e poi avevo portato appunto grazie a questo dungeon Elza a Dea Inferi comunque anche lei 6 stelle oggi appunto vi farò vedere questo ahhh che male questo dungeon e niente andiamo subito video abbastanza veloce eh vi ho spoilerato appunto il video di oggi alle 9 però vabbè paratele in metallo c'ho una chiave usiamola ragazzi vi darà una chiave eh nella capitale di Randall ve la darà ogni giorno e ogni settimana vi darà una chiave gioiello che poi quella la non ve la sto a spiegare ehhh ve la farò vedere un po' più avanti allora ragazzi io adesso ad esempio mi servirebbe un po' di tenebre e un po' di fuoco di appunto fuoco si insomma e quindi andate sul tipo tenebre non lo so vi serve tipo potenziare un tipo tenebre un tipo tenebre andate appunto sulla parata delle tenebre adesso vi farò vedere un attimo come funziona la cosa andate su parata delle tenebre se mi carica oh po 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 e là mi sto veramente gasando a fare questi video perché ragazzi tipo l'ultimo video è arrivato il penultimo video è arrivato a 408 visual ragazzi cioè non lo so penso che Brave Frontier sia la rinascita del mio canale perché non è stato mai così alto come visual comunque una serie o comunque un gioco e ragazzi appunto come vedete stiamo acquisendo degli dei del metallo dei fantasmi del metallo e magari qualche cristallo che ci dà un po' di più magari così ora ragazzi sono abbastanza forte ma non serve per forza una squadra forte anche anche scarsa anche perché appunto gli dei del metallo non fanno molto non fanno praticamente niente dovreste andare a segno subito comunque come vedete anche con Magres di ferro li butto giù subito ora magari non ve ne siete accorti ma con Magres di ferro io li butto giù ad esempio e Magres di ferro è il più scarso della mia squadra insieme a Falma Aereo ora ragazzi poi vi farò vi faccio vedere il mio ID almeno se mi volete aggiungere agli amici ho quasi la lista piena comunque e vedete qui abbiamo finito appunto l'area abbiamo finito l'area se ci mandi avanti se ci degni grazie vi darà 5 unità ogni appunto ogni parata e cosa molto importante ho livello 44 perfetto possiamo fare altri dungeon che poi farò io da solo come vedete è la prima volta che guadagno questo oh mio dio non ci credo mai beh il dio del metallo è molto importante e l'ho guadagnato solo adesso incredibilmente ma perché ho fatto la parte del metallo no aspettate ragazzi eh no mi sta venendo il dubbio ho fatto la parte del metallo mi sa ho fatto il fail come lo scorso episodio aspettate no no fate quello dove te inizio sto facendo il mega epic fail cosa hai fatto e invece no e ragazzi appunto dovete andare su cosa cosa andate su unità andate su fusione unità e appunto ahhh allora momento momento di momento di insomma è diventato impazzito il tablet e madonna 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 vediamo se riesco a a farlo ritornare insomma ai suoi oh si fusione unità non va non va non va non va ma merda rola ma merda rola se devo avere problemi al tablet mentre registro ok ora andiamo su elza appunto e andiamo a fonderli appunto vedete qua vi da già vabbè 2250 vabbè però ragazzi guardate qua 18.000 35.000 e e e e e merda rola ok forse ce l'ho fatta si ce l'ho fatta assolutamente vedete qui dove sono 2002 18.000 35.000 51.000 129.000 cioè signori il dio del metallo è qualcosa di epico come avete appunto visto vi serve un po' anche di zel però questo qua appunto ve l'ho fatto vedere anche nello scorso episodio mi sembra come guadagnare un botto di zel quindi andate appunto il martedì e il giovedì a fare il dungeon e vi danno un sacco ora sono ammazzato di poco perché elza è già al massimo delle stelle e comunque ora è al massimo delle stelle e volevo dire un'altra cosa che mi sono dimenticato vabbè niente ho 4 invocazioni ma aspetto le super invocazioni onorevoli se vi ci dimentico e vi ti piace mettete i piaci per la facebook troverete qui sotto in descrizione perci tutto bella